La Calabria è la regione dove, in rapporto agli abitanti, si svolgono più interrogatori di persone indagate, fermate o detenute, uno ogni 54 residenti. Lo rileva un'analisi condotta da CEDAT 85, azienda specializzata nella fornitura dei contenuti provenienti da parlato, realizzata elaborando dati istat. Secondo quanto emerge dallo studio realizzato in comitanza con l'entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha fatto scattare l'obbligo di registrare in audio o audio-video le escursioni, ogni anno nel nostro paese si svolgono oltre 830.000 interrogatori, in media 2.276 al giorno. Tra le province italiane, nelle quali il rapporto interrogatori abitanti è più alto, svetta al primo posto Vibo Valencia, un interrogatorio ogni 41 abitanti, seguita al secondo posto da Isernia e Imperia e Crotone appaiate in terza posizione. A livello nazionale, nella classifica stirata da CEDAT 85, la Calabria è seguita a brevissima distanza dalla Basilicata, con un interrogatorio ogni 55 abitanti, e dalla Liguria, con un interrogatorio ogni 56 abitanti. Dal punto di vista dei numeri assoluti, invece, la regione nella quale si tengono più interrogatori è la Lombardia, erano quasi 130.000 nel 2021, seguita dalla Sicilia, con 79.850, che supera di poco la Campania, con 79.624. A primeggiare tra le province, invece, ci sono quelle con i maggiori centri urbani. La prima è quella di Roma, seguita dalla provincia di Milano e da quella di Napoli. Con la riforma cartabbia, afferma Gianfranco Mazzoccoli, presidente e fondatore di CEDAT 85, la fonoregistrazione e la videoregistrazione rientrano tra le ordinarie e obbligatorie forme di raccolta degli atti processuali, tra cui l'interrogatorio.